E con noi Giulia Antamborendeghi, la forza mentale di stare sotto 0 a 4, di sapere che è ancora lunga questa partita e ce ne saranno altri 50 minuti, davvero complimenti alla tua squadra. Sì, alla fine abbiamo finito abbastanza bene, perché dopo un 4-0 è difficile rimontare, con questa squadra che ha esperienza veramente bene, ma un 4-0 non era giusto perché siamo arrivati tante volte in porta, veramente Verona è stato bravo, adesso dobbiamo andare di là a prendere più di un gol. Cerca di vincere contro una squadra che il Monza non l'ha mai battuto, cosa cambieresti di questa serata se c'è qualcosa che potresti cambiare? No, io penso che l'attacco oggi l'abbiamo fatto bene, in difesa abbiamo sbagliato un po' e ogni volta che abbiamo sbagliato è gol, non puoi sbagliare con questa squadra che ha tante qualità in passaggio e hanno esperienza anche davanti a porta, non si può sbagliare così. Però condizione fisica e anche mentale, come dicevamo all'inizio intervista, ripetiamo, a 4-0 il match si è chiuso 3-4, siete messi bene. Sì, sì, ovviamente dopo un 4-0 dovevamo correre, però abbiamo corso bene, non abbiamo buttato la partita così. Sono contento con i compagni, hanno fatto tutto per essere ancora con vita in Bercella. Ok, ringraziamo Giulia.